Se io fossi vissuto in un altro periodo, in un'altra epoca della storia umana, mi sarebbe piaciuto fare come lavoro il pittore, come facevano i grandi maestri, magari nell'Ottocento, nel Settecento o nel Seicento, conoscendo Caravaggio, conoscendo Leonardo da Vinci, insegnavano ai loro allunni, rivelandogli i segreti della pittura, del colore, le tecniche, i particolari, le tinte. Mi piacerebbe avere anche una bottega, una bottega grande, luminosa e aperta a tutti. Sicuramente sarebbe stata una grandissima, una fortissima emozione questa cosa di lavorare come i grandi maestri. Sono convinto che riuscirò a farla anche nell'epoca in cui sto vivendo adesso. Mi aspetto che ci sia uno spazio dedicato ai giovani, dove il giovane può interagire con cosa guarda.